... ... ... ... ... ... Sì, la sensazione è come se fossi io un turista che viene dall'altra parte del mondo, ma tu sei brava in questo, perché riusci a da bene, perché sai che succede, Sardegna? Laura è tornata! Meglio, benissimo, da Dio! Ma se poi si vede da Dio comunque, Raffa? Sei molto recettiva! Basta poco! Se vengono in una sera, tu hai questa reazione, complimenti! Ma che ho la tua luce negli occhi, Raffa? No, ieri comunque ero anche nervata dal cane, tutto il giorno, per cui ero stanca. Ora sono piaciuta, perché ho mostrato una premissoluzione per me. Sì? E poi lei mi sa che ci siamo fatte indietro? No! Ah? Mi raccontavo a me che mentre io lavavo i piatti, tu gli hai fatto la sequenza delle sedute! Come? Ah, la sequenza, certo! Perché no! Il culo, duro come la pietra, può essere stato inserito a terra. Poi c'era la versione della sedia, quella conca, che poi ti ha già di così. E poi c'era l'altra, quella bombata, che ti ritristinava e ti faceva uscire tutto. No! E c'era il passaggio nel condizionatore, no? Ah, come era? Con lo specchio, la davanti che lo specchio e lo scordava, e lo specchio! E lo specchio! No, lo specchio è anche del fustatavo, perché lì mi vedo come sto messa! Che mi vedo, se ho l'atteggiamento del prezzo, se ho l'atteggiamento... No, quello se c'è! Ah, un po' perché al di là, diciamo, il fatto che sta bene verso là! No, no, lo so perché! Sì, sì! Ma tu hai visto quanti specchi c'è a casa? Cosa è il specchio che c'è? Anche l'altra buzione ce l'ho specchio, o specchio comunque! E l'altra buzione, poi è la tante! No, perché mi dà profondità! Ah, sì! L'oblò, l'assi, il perfetto blò nel bagno! Quello l'assi! Ma tu sei bravo, proprio bravo! Proprio bravo! Proprio bravo! Ah, ma non si vede comunque perché è nero! Ah! Guarda, guarda Fabio! Guarda! 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 Mi dà aspetti incondizionati, guarda! 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 E' vero? Effettivamente è vero! E' che è proprio l'occhio, con i denti! Che c'è? Ma che c'è? Meraviglia! Io oggi mi meravigliavo dopo la mia svolta di vita di come mi sto forrendo nello studio, mi sento rinata praticamente c'è proprio... Inoltre a proposito di questo ho incontrato... Arturo? Quando ora? Ho incontrato per una ora, dovevo venire a fare ho trovato il cane in testa per il bisogno Con chi è da solo? Da solo, da solo, devo dire che secondo me questo effetto tuo di energia aspetta un po' lui Si? Ma che male io? Che male? Ti sono il suo papà! E' male! E' l'oltre a pensare che c'è? Ma no, sono p***a Io sono un po' di radio Poi ti pensa che lui è venuto con un titolo nel formaggio e ho visto che c'era la ragazzina che è scesa giù tipo bambina andato ad accompagnare e poi lo viste a salire Sai tipo quando la figlia aspettava il papà che tipo contento? Perché era... Eh, voglio avere stancata la figlia Ma sei un papà figlio? Io sicuro Io penso che sono uscita a pranzo e lei saliva tutta... Eh si Io sto stavo Shining Radiosa Che c'era il tizia lì che mi chiamava che fa la corda e quell'altro angelo che fa la corda e l'altro che mi chiama Lei? Lei? La figlia morta qua Cazzo 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 Ah, perché ti ho decaduto io? Sì Ok, ma... Che faccio? B Faccio? Come in si tro Ok Ok Ah! 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 Ah, non so si so Non so, non so Non so, non so Sì, che ho malattie anche se domani vorrete venire prima. Sì, che ho malattie.